Sei pronto? Sì! Allora, ciao a tutti! Allora, questo qui è il video dove vi facciamo vedere tutte le cose di Halloween che abbiamo e poi vi facciamo vedere come le abbiamo messi in casa, cose vecchie e cose nuove. Allora, partiamo dalle cose nuove. Allora, su Shein, insieme ai copricuscini quelli d'autunno, diciamo con le zucche, i fiori, eccetera, ho preso anche quattro copricuscini di Halloween. Per chi? Per il divano! Per il divano, al posto di quelli lì che ci abbiamo. Allora, questo qui che c'è scritto Happy Halloween. Carinissimo! A guardarli, devo dire la verità, a guardarli mi sembrano un po' più grandi, però non mi interessa, sì, meglio. Comunque, allora, ci abbiamo Happy Halloween. Sì! Tutto arancione. Sì! Poi ci abbiamo questo qui con le zucche. Ho scritto Halloween party con tutte le zucche. Con il pipistrello e il ragnetto. Quale zucca ti piace di più? Quella, immaginavo. Troppo bella. Quella più brutta, più cattiva. Non è brutta. Non è brutta. È assonnata. Poi questo ho scritto trick or treat. Sì, trick or treat. Sì, trick or treat. Questi fantasmini. Questo come? Ah, la scopa. La scopa. Pure i pipistrelli e tutto tutto. Tutto tutto tutto. Tutto la corrente degli Halloween. Perfetto! E poi questa, che secondo me è la più bella di tutti. Infatti è bellissima! Perché c'è la zucca. Che è solamente questa, la zucca nera, fatta al contrario. Altre cose che ho preso sono state questi due, che sono due rotoli di adesivi per le finestre. Tanto lui dirà fuori curioso come... Curioso! Sono curiosone! Allora, uno è questo, che se riesco, vi faccio vedere. Che è il colpore. Levo il polistirolo, grazie. Tre. Eeeh! Comunque lui è più in versione Halloween di me, perché è sventato. Perché? Perché è il dente torto. È vero! E mi è pure caduto un dentino. Fa gente torto. Vabbè, comunque, questi qui sono tutti scheletri. Questa! Devo farvi vedere, mamma. Ah, carino. Con il pipistrelli, lannetti, due. Sì, pure il nostro qua sopra. Sì, perché praticamente sono tutti scheletri fatti in questo modo, che vanno messi alla finestra. Eh, penso che dietro abbiano il bianco, quindi dovremmo metterli rigirati al contrario. Poi, quelli è uno. E quest'altro... Ah, tutte queste cose poi le ho prese tutte su Amazon. Le uniche cose di Halloween che ho preso su Shein sono i copri... I copri... I copri... I copri... I cuscini. I copri e i cuscini. Sono questi che vi faccio vedere. Prima... Quest'altri pure sono... Ok. Quest'altri pure sono... Strano! Appiccichini delle finestre. Sì, appiccichini. Però questi sono un po' più... Cioè, hanno diverse cose. Tipo appiccichini, tipo quello che c'è nella porta. Sono diverse cose. Mamma, tipo quello che c'è nella porta. Sì. Sì. E queste sono le cose che attaccheremo alla finestra. Poi, sempre su Amazon... Sì. Ho trovato questi... Che sono due appendini. Questo, tipo una scritta. La scritta. Sì, sono due scritte da appendere che io voglio appendere in sala. Questa è quella che mi piace di più a me, personalmente. Col fantasma che sta... È stata in pannoleggi. Col fantasma che sta così. Con scritto BUUUUU. E il fantasma che sta così. BUUU. E poi c'è questo, dove c'è scritto Trick or Treat in nero. Col pilistrello. Che non vediamo niente. Eccola qua la scritta. Perché io sono nera e tu sei scuro. C'è pure il pilistrello. Vabbè, comunque Trick or Treat. Eccola qua. E queste le appendiamo in sala. Poi mi sa che ci sono tutte cose degli altri anni. Allora. Questo. Abbiamo... Lo devo prendere io. Oddio, Charlie. Ok. Il mio cosetto per le caramelle. Esatto. Questo è il suo teschio. Che praticamente ci è andato a fare dolcetto scherzetto. Lo amo. È il mio preferito. Sarà sempre il mio preferito. Ok. Poi c'è la zucchetta di Aurora. Infatti, che fa ridere. Questi due l'ho presi. E mi sa anche quest'altro che vi faccio vedere. Tutti all'Eurospin. E c'è anche quest'anno. Perché ho guardato pure per quest'anno. Questo qui. E questo. Questo è il mio. Questo è il mio. È quello che ho fatto. Il Jack. Il Jack Skeletron. E questi tre praticamente io l'ho presi all'Eurospin. C'è anche Frankenstein. Che ero tentatissima. Però ho detto. Madonna. Già ce n'ho tre. Che ce devo fare. E quindi niente. Non l'ho presi. Poi qui dentro Jack. Che c'è? Ci sono. Vabbè. A parte le candeline. Da mettere le zucche. Che però quest'anno. Purtroppo non abbiamo la zucca da fare. No. Non ce l'abbiamo amore. Vabbè. Poi dentro ci sono pure le ragliatele. Ci abbiamo però. Le ragliatele. Che fanno schifre. Le ragliatele da mettere. Andiamo nell'alpataio. Per tutta casa. Per l'alpataio però. Certo. Nell'alpataio. Poi. Poi ci abbiamo. Dei lavoretti che ha fatto. Mi passi il fantasma. Allora. Questi sono i lavoretti che hanno fatto loro. Alla materna. Per Halloween. Mi tengo perché sono troppo carini. I pipistrelli. Allora c'è questo. I pipistrelli che ha fatto. Alessandro con le mani ma al contrario. Perché in realtà dovrebbe essere così. Però non l'ho fatta a contrario. E questo. Che ha la zucchetta. No. Sempre il tuo questo. Ah davvero. Che ha la zucchetta. Ma il fantasma di chi è? Tu sempre. Ma perché tutto è così io? Poi ci abbiamo i festoni. Belli. Che però non so se metteremo. Sono sincera. Perché l'anno scorso l'ho messo. Perché abbiamo fatto una specie di pesticciola. Però quest'anno non lo so. Comunque questi festoni qua. Uno a forma di zucca. E un altro a forma di teschi neri e bianchi. Poi ci abbiamo Mortimer. Mortimer è il mio pezzo preferito. E volevo andare a comprargli il padre. Perché non ho visto il padre. Dove? Allora. Ci abbiamo avuto un piccolo momento. Allora. Qui ci abbiamo Mortimer. Io volevo comprare il padre. Perché l'ho visto il padre di Mortimer. Davvero? Dove? In un negozio. E vediamo se domani lo vado a comprare. Oppure Mortimer rimarrà da solo. Calcolate che Mortimer questo è fosforescente. Eccoli qua. Poi ci abbiamo. Di gemelli zucca. Di gemelli zucca. Piccoli. E poi c'è manca un pezzo. Ah vedi l'hai messo lì quelle. Mi sembrava che mancava qualcuna. Eccolo. Allora. Scordiamo i pezzi. E lui via e mette via. Allora. Poi qui dentro ci sono tutti i pipistrelletti che avevamo fatto nel corso degli anni con il cartoncino. E poi c'è un'altra borsetta a forma di zucchetta che questa è di Aurora che gli avevano regalato ai miei genitori quando si è vestita la strega. Poi c'è questo che è uno dei due che avevamo. Quell'altro mi sa che si è rotto. Infatti sì. Avevamo due. Un altro si è rotto. Questi qui erano quelli della Kinder che uscivano fuori. Prima di te è così in realtà. In realtà era un cestino fatto al contrario. Cuso così. E dentro c'erano i kinden. Ma dov'è il loro papà? Dici me di zucco. Non lo so. È zucco. E dentro praticamente c'erano i cosi. Poi tu lo giravi e diventava un portacaramelle di peluche insomma. E poi abbiamo ecco queste qui che le ho prese sempre su Amazon. E pure questa scatoletta. Ma voi mi direte perché hai preso tutto su Amazon invece di andare dal cinese che avresti risparmiato? Perché ragazzi il mio cinese c'ha già la roba dei Natali. È avanti. È troppo avanti. Non si può. Cioè io sono andata dal cinese a inizio ottobre per vedere se c'era qualcosa di Halloween. Non c'era niente. Già metteva la roba dei Natali. Cioè sono rimasta alliepita e dico no ma tu sei matto. Non c'era nulla. Nulla. Non c'era niente. Niente del niente del niente. Ma niente. Cioè non è che mi aspettavo le maschere. Ma proprio niente. Neanche un cerchietto, un cornino. Niente. Ho dovuto prendere tutto quanto su Amazon perché il cinese era già in... Amazon c'è tutto quello che vuoi. In direzione Natale. Da qui a Natale manca ancora due mesi. Amazon c'è tutto quello che vuoi. Eh. Sì. Sì. Comunque le paghi un pochino di più però alla fine se sai andare a cercare bene le cose le trovi comunque anche a poco. Io schizzo. Allora. Per concludere, ecco tornando al discorso, ho preso anche delle lucine. Allora ho preso queste che sono a forma di pipistrelli. Io so che... No, spiepistrelli quei. Piepistrelli sì. Sono pipistrelli. Fanno la luce viola. Viola. Fanno la luce viola. E quindi penso che queste andranno in camera di Aurora. E poi ho preso anche queste. E queste invece sono le mie preferite. Sono troppo carine. Sempre a batteria le zucche. E queste penso che le metteremo qui in camera tua. Bellissime. Come amo il mio zucchetto. Come amo il mio zucchetto. Va bene. Noi andiamo ad attaccare tutta a farò. Dove be con la luce. Dove be con la luce. Dove be con la luce. Ma tarda. Dove metteremo. Goodnight. Dove peu. Grazie a tutti. 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 Fatemi sapere se anche voi addobbate per Halloween oppure no e niente divertitevi tutti quanti. Grazie a tutti.